Conoscete Rosa Moonpike? Allora, vediamo un po'. È l'attrice inglese che ha interpretato Miriam nel film La versione di Barney. Beh, niente? Allora, diciamo che era Andromeda in scontro tra titani, ruolo che ha ripreso nel sequel La furia dei titani. Ascoltiamola mentre ci parla del suo lavoro e della sua gravidanza. Bisogno di essere salvate. Tempo fa avevamo incontrato Jeremy Piven, che parlava del teatro dei suoi genitori. Uno degli attori che aveva debuttato con loro era William H. Macy. E adesso ascolteremo proprio lui. Il popolare attore è felice di avere un impegno flusso nella serie tv Shameless, arrivata alla seconda stagione. William H. Macy ha 62 anni ed è sposato con la star di Casalinghe Disperate, Felicity Huffman. 15 anni di solido matrimonio seguiti a 15 anni di convivenza. William e Felicity hanno due figlie di 12 e 10 anni. Ma lui che tipo di padre è?